Dopo le sedute deserte dei giorni scorsi, il Consiglio Comunale di Riccata è stato nuovamente convocato per il 1 febbraio alle 18 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, in discussione ai criteri generali in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018, l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e il relativo elenco annuale. Infine l'approvazione dello schema di bilancio e di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018. Intanto i consiglieri di opposizione, Giuseppe Russotto, Calogero Scrimari, Pietro Munda, Francesco Moscato, Giada Bennici, Piera Di Franco, Antonio Vincenti, Antonio Terranova, Violetta Callea, Laura Termini, Maria Antonietta Grillo, Vincenzo Sica e Tiziana Sciria intervengono duramente sull'operato della giunta e del sindaco Angelo Cambiano e sulla mancanza di numeri in consiglio per poter amministrare. Il dato politico che emerge non è che ci sono 20 consiglieri responsabili, come la maggioranza vorrebbe far credere con l'ausilio di commentatori che in questo momento si dimostrano privi di ogni capacità di analisi obiettiva. Il dato politico è che i due terzi del consiglio comunale, il 67% della rappresentanza cittadina legittimata dal voto, tanto quanto il sindaco, non sostiene le sue politiche. In altre realtà a noi vicine sindaci che sono in queste condizioni indigni sottosamente si sono dimessi. Soltanto a Licata le dimissioni si annunciano per fini mediatici e poi si ritirano. L'ultima seduta testimonia che esistono le condizioni per una sfiducia al sindaco e non sulle demolizioni ma sul suo operato nel suo complesso. La maggioranza consigliare, il sindaco, la giunta hanno la responsabilità di avere portato il bilancio in consiglio fuori tempo massimo. Questo bilancio andava approvato il 30 aprile 2016 ed invece arriva in aula il 24 gennaio 2017, quando di fatto è un consuntivo inemendabile, tanto è vero che tutti gli emendamenti proposti hanno ricevuto parere negativo. Non si può portare il bilancio dopo nove mesi, gestire disannatamente le risorse senza una strategia, aggiunge l'opposizione senza avere un vero piano di rientro nei parametri del pareggio di bilancio e poi attribuire la responsabilità all'opposizione perché non si presenta in aula a dire signor sì tutto. La refezione scolastica da settembre a dicembre, i nostri figli l'hanno avuta per una settimana, è non certo per colpa dell'opposizione. Le buche per le strade sono intonse e si allargano sempre di più, nessuno le ripara e non certo per colpa dell'opposizione. La città si è allagata anche perché non si sono puliti i canaloni e le caditoie, lavori che noi l'anno scorso volevamo finanziare e non è stato possibile perché il bilancio, come ora, era stato presentato in ritardo ed era inemendabile.